Da circa una ventina di giorni la città di Pesaro si è arricchita di un nuovo punto di vendita unico nel suo cenere, Times Square Antichità e Vintage. Siamo con Dario Pedini, titolare di questa nuova attività, al quale chiediamo che cosa porta di nuovo questa Times Square in città. Allora, innanzitutto porta qualcosa di bello, perché Times Square sarebbe per noi non solo la celebre località americana, ma la piazza del tempo. Quindi quando tu varchi la soglia, entri in un'altra dimensione, bella e stupenda, dove trovi tutta una serie di mobili antichi dell'Ottocento, della metà del Novecento, adatti per arredare locali, studi, case, non solo classiche ma anche moderne. Infatti tutti i pezzi che abbiamo sono frutti di un lavoro di ricerca e di selezione, girando per l'Italia e anche per l'Europa, presso i migliori antiquari o presso le migliori fiere dell'antiquariato, selezionando tra 10.000 pezzi i 2, i 3, i 4, i 5 più belli che ci hanno colpito, i più originali, i più particolari, i più belli, quelli d'epoca e che possono adattarsi appunto anche a più contesti. Quindi offriamo con questo negozio, innanzitutto, come ho detto prima, ad entrare in un'altra dimensione storica, affascinante, ma soprattutto un servizio. Il servizio è di trovare solo pezzi selezionati e quindi già questo è un grosso servizio a favore del cliente, e l'altra riuniti in un unico spazio che invece a noi diciamo è costato tempo ricerca e lavoro e selezione, girando per l'Italia e per l'Europa, e invece il cliente li trova tutti qua. Infatti in metà del nostro lavoro consiste al di fuori del negozio, non solo dentro il negozio. Il negozio è strutturato in maniera tale da favorire sia l'acquisto mirato, sia diciamo l'ispirazione che la stessa allestimento può dare a suggerire acquisti originali? Certo, innanzitutto è un negozio, come dicevo prima, dove varcando la soglia entri in un'altra dimensione ed è un negozio da scoprire, da scoprire ogni mese, perché essendo tutti pezzi unici e originali ne troverai 200 questo mese e magari tra un paio di mesi ne troverai 100 differenti, perché sono sempre unici e originali in base a quello che abbiamo trovato e selezionato, prima cosa. Poi è un negozio ampio con tre locali dove ci sono anche vari stili, lo stile elegante, classico, lo stile rustico, lo stile vintage, quindi tutte le persone, anche i più giovani, anche i ragazzi possono trovare qualcosa che va bene per loro e poi a livello di funzionalità puoi trovare il pezzo importante che tu magari stavi cercando per impreziosire la tua casa, come può essere la poltrona viennese Friedrich Otto Schmidt, piuttosto che la dormese in ciliegio del 1800 e trovi un pezzo che ti soddisfa e ti cambia, diciamo per esempio il soggiorno, oppure può essere l'arredatore o la persona che deve rimettere a posto la casa dopo i lavori e cerca non un pezzo ma magari tre pezzi, cinque pezzi, dieci pezzi, con cui dare gusto e stile con una serie di complementi d'arredo al proprio locale, quindi trova magari l'insegna, la lampada antica, piuttosto che il mobile, piuttosto che gli sgabelli, piuttosto che un reperto storico, con cui da gusto e stile che le persone poi che visiteranno il suo locale noteranno ovviamente la differenza.